Terzo impegno interno per il Vasto Girardi che cerca la prima vittoria in campionato. Dopo il sonoro K.O. di Notaresco, al di Tella arriva i lecchieti di mister Lucarelli, reduce dall'1-1 casalingo contro il Fano, ostilità dirette dal signor Striamo della sezione di Salerno. Per la cronaca 4.40 si propongono i teatini con la discesa sulla destra di Di Mino. Il suo cross attraversa l'intera area giallo-blu con il pallone fuori dalla portata degli attaccanti. Minuto 14, il Vasto Girardi al limite dell'area con Ametai, posizione favorevole per calciare la sua rasoiata, si perde a lato. 21esimo di nuovo gli altomolisani, scatto di Ametai che dribbla anche il portiere, fermato però in posizione irregolare dall'assistente. 29esimo inizia a prendere le misure anche Guida che si esprime con un sinistro però da dimenticare, praticamente una telefonata per il portiere Fusco. 33 di nuovo i locali con secondo fermato da Bassini, tutto regolare per il direttore di gara. Il 34esimo è un buon Vasto Girardi che però pecca di precisione, guida per Alagia, pallone fuori bersaglio. Al 40esimo fallo di Akamadu ai danni di Guadalupe all'altezza della trequarti, giallo per il giocatore nero-verde tra le proteste della panchina di Prosperi che voleva il rosso diretto per il duro intervento. 43esimo mischia in area ospite, si coordina Guadalupe, ottima la mira, c'è bisogno però del riflesso di Fusco, ultimo sussulto del primo tempo, il piazzato di Sergio Ruggeri con l'opposizione della barriera. È 0-0 all'intervallo e con Antonio Di Perna in regia. 2.30 nel corso della ripresa, il terzino del Chieti, Pier Antonio, interessante il suo traversone. Gioco aereo di Fabrizi, poco preciso nella circostanza. 12esimo per la squadra di Lucarelli, avanza Puglielli di Stasio a tutto il tempo di agguantare la sfera, tuffandosi sulla sua sinistra. 14esimo corner in favore dei giallo-blu, se ne incarica Guadalupe, elevazione di Sergio Ruggeri che però spedisce alto al 19esimo fronte opposto, Pier Antonio dalla destra, disegna per Fabrizi, colpo di testa, colmo di potenza e precisione che vale il vantaggio del Chieti. 24, di nuovo gli abruzzesi, Verna dalla lunga distanza, si tuffa di Stasio che accompagna sul fondo al 26esimo invece. Erodi a spingere, semina panico in area avversaria, lato corto sinistro, a pochi passi, Cuoio che però sbatte sulla parte alta del montante. Al 34esimo si prende la scena il neoentrato Mingiano che riceve a pochi metri dal dischetto, se l'alza e la piazza sul palo lontano dove Fusco non può arrivare per il punto dell'1-1. Cambia volto la formazione molisana, Michele Guida in solitaria, pallone sul destro che non gira a dovere, finale al cardiopalma con l'assalto del Chieti contropiede orchestrato da Pier Antonio sulla corsa Rodia a botta sicura. C'è il colpo di Reni di di Stasio, straordinario l'estremo difensore gialloblu anche nell'ultimo minuto di recupero sul colpo di testa sotto misura di Baldè. Pareggio giusto come dichiarato da entrambi i tecnici, Lucarelli e Prosperi, a margine della gara. Il Chieti sale a quota 8, il Vastogirardi rimanda all'appuntamento con la prima vittoria in campionato e domenica farà visita al Tolentino. Sì, è detto bene perché è un campo difficile, abbiamo fatto gol in un momento di inerzia della partita, al primo tempo è stato molto equilibrato, poi c'era un momento in cui potevamo forse provare a raddoppiare con la traversa che abbiamo colpito sul tiro di un nostro attaccante e poi nelle occasioni migliori l'abbiamo avuto solo uno pari perché insomma avete visto, ha fatto un paio di interventi importanti, però io vi dico che alla fine di tutto, però gli episodi è così, però la partita secondo me è stata giocata bene da entrambe le squadre, il risultato a livello di episodi poteva pendere dalla nostra parte, però il pareggio alla fine si può accettare. 8 punti in 5 partite, che risultato sono per voi? Per noi, per il nostro percorso, bene, siamo comunque una neopromossa, portiamo un nome importante sulle spalle, però rimaniamo una squadra neopromossa che ha voglia di fare bene, come stiamo cercando di fare, mettendo in mostra anche dei giovani interessanti e quindi noi cercheremo di fare punti su tutti i campi perché l'obiettivo è di andare più in classifica possibile. È una partita contro una squadra forte, una squadra forte che sta facendo un buonissimo campionato, secondo me abbiamo fatto tante buone cose, qualcosa meno, però la squadra mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto per come l'ha affrontata, per come l'ha preparata e per come ha impattato contro una squadra forte, come dire che ci giriamo intorno. Dopo il gol che avete realizzato con Mignano, un po' di sofferenza nel finale che tutto sommato ci può stare? Quella non mi è piaciuta perché l'abbiamo concesso, abbiamo concesso due stupidaggini incredibili per la foga di vincere la partita, ma abbiamo concesso due stupidaggini incredibili dove il portiere è stato bravo ed era veramente un peccato perché insomma abbiamo concesso due occasioni veramente banali, però ci servirà di esperienza anche questo.